Salve a tutti crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Oggi, ancora una volta, dopo un po' di settimane di continuità, che è una novità assoluta, su questo canale, rispondiamo a una domanda molto importante che mi avete posto. Ma cosa diavolo è una particella? Per affrontare questa domanda dobbiamo partire molto indietro e rispondere ad un'altra questione, ovvero come si costruisce una teoria fisica, o meglio ancora, come si costruisce un universo. Partiamo da zero, immaginiamo di essere delle divinità, quelle che preferite. Io mi immagino come un enorme pavone con otto braccia, sette ali e gli occhi laser. Mi raccomando gli occhi laser. Ora, davanti a me c'è il vuoto totale, il nulla, il nulla, e io voglio creare qualcosa. Partiamo dallo spazio-tempo. Che cos'è lo spazio-tempo? Lo spazio-tempo è quel posto dove le cose accadono, quella roba che, come dicevano i video precedenti, misuriamo con tre righelli ed un cronometro. Per ora ci limitiamo ad una descrizione classica dello spazio-tempo, che precede qualunque oggetto ci possiamo mettere sopra, dentro e così via. Quindi ci limitiamo alla descrizione della relatività generale, anzi, a uno spazio piatto, così non complichiamo le cose. Sappiate che in fisica, in generale, noi ci immaginiamo lo spazio-tempo come quella che chiamiamo una varietà differenziabile a quattro dimensioni, che soddisfa certe caratteristiche. Per quanto vi riguarda, a meno che non vi interessino le definizioni matematiche un pochino astruse, e in tal caso vi lascio qualcosa in descrizione per approfondire, se siete un pochino orientati ai tecnicismi, dicevo, lo spazio-tempo è una varietà differenziabile a quattro dimensioni, l'analogo in più dimensioni di una superficie. Quindi voi immaginate una generica superficie potenzialmente curva, un lenzuolo, no? Un lenzuolo a due dimensioni, una stringa, tutta una stringa delle scarpe vista da lontano a una dimensione, un punto a zero dimensioni, un volume potenzialmente tutto attorcigliato. Nea tre, noi immaginiamo una roba a quattro dimensioni, perché ovviamente abbiamo anche il tempo. Quella cosa lì è lo spazio-tempo, è dove tutto accade e siamo in un regime classico, quindi lo spazio-tempo è continuo, non fa cose strane, soddisfa le equazioni di campo di Einstein, che sono le equazioni fondamentali della relatività generale. Sopra questo spazio-tempo mettiamo dei campi. Per ora restano campi classici, non so se oggi ci sarà tempo di parlare di campi quantistici, in tal caso ci arriviamo poi. Per ora sono campi classici. I campi sono oggetti di vario genere, con caratteristiche peculiari, che vivono sullo spazio-tempo. Un esempio di un campo banale, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, da un punto di vista quantomeno matematico, questi campi poi fisicamente sono oggetti fondamentali e diversi, ma almeno da un punto di vista matematico, è la temperatura. Quando siamo in una stanza, in ogni punto della stanza, c'è una temperatura diversa, muovendoci ce ne rendiamo conto, questo genera anche dei gradienti e quindi delle correnti d'aria e così via, ma immaginiamo un oggetto matematico che ad ogni punto della stanza associa un certo numerino, ovvero la temperatura dell'aria in quel punto della stanza. Questo oggetto matematico è un campo, in particolare il tipo di campo più semplice in assoluto, un campo scalare. Immaginatelo davvero come una macchinetta che ci chiede, ehi, dammi un punto. Tu dai alla macchinetta un punto, dello spazio e del tempo, mi raccomando, e quella ti restituisce un numerino. Quello è un campo. Ora, noi descriviamo la fisica fondamentale come un gioco tra campi, campi quantistici, ma ripeto, ci arriveremo. Quindi abbiamo il nostro spazio-tempo, siamo la divinità Pavone, abbiamo lo spazio-tempo, ci mettiamo sopra dei campi. Questi sono oggetti che hanno certe caratteristiche generali e certe caratteristiche specifiche in ogni punto dello spazio-tempo. Banalmente, se siete a vostro agio con la nozione di vettore, noi possiamo immaginare in ogni punto dello spazio-tempo un vettore orientato in modo diverso, che curva e si sposta e gira man mano che ci muoviamo sullo spazio-tempo. Questo oggetto è un campo vettoriale e ovviamente in fisica teorica, per descrivere tutto il bestiario di particelle e oggetti che abbiamo nell'universo, noi usiamo diversi campi quantistici. Ora, noi abbiamo solo i campi e non abbiamo idea di come si comportino quando interagiscono, quindi abbiamo bisogno di delle equazioni, del moto, delle equazioni che ci permettano di descrivere l'evoluzione nel tempo di questi campi, noto anche il loro stato iniziale, lo stato iniziale di tutti i campi, perché tra loro interagiscono con semplicità e magari un computer, perché spesso queste cose sono difficili da derivare a mano, ma abbiamo bisogno di delle equazioni del moto. In generale, noi cosa facciamo? Partiamo da un passetto più indietro e scriviamo una funzione che si chiama la grangiana, poi un funzionale d'azione, degli oggetti matematici, ma questo va oltre l'obiettivo di oggi, dicevo, una formuletta che incorpora tutta l'informazione sulle interazioni fisiche che hanno luogo nel nostro palcoscenico, nel nostro paziotempo, tra i campi che ci abbiamo messo sopra. Quindi noi ci mettiamo un campo che chiamiamo campo elettromagnetico, un campo che chiamiamo campo di Higgs, un campo che chiamiamo elettrone, ok? Sono tre oggetti diffusi, onnipervasivi, che esistono in ogni punto dello spazio-tempo, con le loro caratteristiche, e poi diamo una lagrangiana, una funzione di questi oggetti matematici, un'altra macchinetta ancora più complicata, da cui possiamo dedurre, per una cosa che si attraverso una cosa che si chiama principio di minimazione, minimizzando una certa quantità nell'evoluzione temporale di questi campi, le equazioni del moto. E quindi una volta che abbiamo lo spazio-tempo, i campi che ci mettiamo sopra, è una lagrangiana, un'azione equivalente, e quindi le equazioni del moto possiamo iniziare a fare predizioni teoriche per cercare di predire il futuro da uno stato presente. Quindi noi diamo uno stato iniziale di tutti i campi e poi con le equazioni del moto generate dalla lagrangiana li facciamo evolvere nel tempo. In un certo senso la lagrangiana descrive tutte le possibili interazioni ammesse dalla nostra teoria. Banalmente, quando costruiamo l'elettrodinamica di Maxwell, noi prendiamo uno spazio-tempo, ci mettiamo sopra un campo elettromagnetico ed eventualmente delle sorgenti di campo elettromagnetico, e poi diamo la lagrangiana di Maxwell da cui possiamo dedurre le equazioni del moto, le famose equazioni di Maxwell. Lo stesso vale per la meccanica di Newton, per la cromodinamica quantistica, e così via. Ora, a partire dalla lagrangiana, noi possiamo costruire altri oggetti matematici, c'è in particolare un oggetto che si chiama hamiltoniana, o, per quanto ci riguarda oggi, energia nella nostra configurazione. Abbiamo un modo per scrivere l'energia di una certa configurazione di questi campi sullo spazio-tempo, e chi di voi ha visto qualcosa di relatività generale mi dirà che sì, ma anche la metrica dello spazio-tempo, anche lo spazio-tempo in quanto tale è un campo, interagisce con gli altri campi, io vi dico sì, ma per oggi lo trascuriamo, perché se no non ne usciamo più. Dicevo, ci fermiamo uno spazio-tempo fisso che non cambiano perché se altrimenti andiamo completamente pazzi, ma in linea di principio dobbiamo tener conto anche di quello. Per oggi ci limitiamo a chiederci quale sia l'energia di una certa configurazione dei campi, e quindi proviamo a modifare sempre, sempre nei limiti imposti dalle equazioni del moto, ok? Le soluzioni di una teoria sono quelle configurazioni di campi che soddisfano le equazioni del moto. Ad ogni possibile soluzione dunque possiamo associare un certo valore dell'energia di quella configurazione e li possiamo confrontare. È un numerino. Quella certa soluzione dell'equazione del moto, può essere un'onda elettromagnetica che interagisce in un certo modo con gli altri campi, ha una certa energia. Quell'altra soluzione ha un'altra energia, quell'altra soluzione ha un'altra energia. E noi cerchiamo i minimi dell'energia, perché la natura piace stare tranquilla e cerca di stare in una situazione stabile e se può minimizza la sua energia, ok? La butta fuori, la adopera per fare cose, ok? Quindi noi cerchiamo i minimi dell'energia perché la natura tende a mettersi nei minimi dell'energia. Sono più semplici da realizzare, sono più stabili proprio perché sono dei minimi e allora troviamo i minimi. i punti stabili della teoria che sono certe configurazioni dei campi che soddisfano le equazioni del moto su un certo spazio-tempo che abbiamo scelto all'inizio. Tenessimo conto anche dello spazio-tempo dinamico, dovremmo risolvere le equazioni del moto anche per lo spazio-tempo, anche quello sarebbe uno dei campi che cambiano in questo gioco, ma dicevo, oggi lo teniamo fisso e lo spegniamo e non ci rompa per questo piccolo video perché non aggiunge nulla alla descrizione di quanto voglio dire ora e dicevo, adesso abbiamo i nostri stati di vuoto che minimizzano l'energia, li chiamiamo appunto stati di vuoto perché minimizzano l'energia, sono la cosa più simile ad un vuoto in una teoria di campo, ok? Poi, in una teoria di campo quantistica è tutto ancora più difficile, ancora più difficile. Ora, per immaginare uno stato di vuoto noi dobbiamo pensare a una pallina sul fondo di una valle. Se voi avete una pallina in fondo a una valle, immaginate la valle come una U e fate piccole perturbazioni, quindi date piccole spinte a questa pallina, quella tenderà a tornare un po' su e poi oscillerà e oscillerà e oscillerà e oscillerà e oscillerà e se c'è attrito, se non c'è attrito continuerà a oscillare all'infinito, se c'è attrito tornerà e si ristabilizzerà nel minimo. Quello è un minimo dell'energia potenziale gravitazionale ovviamente della pallina ed è una posizione stabile. La diciamo stabile proprio perché sotto piccole perturbazioni la pallina tende a non allontanarsi, anzi, la forza gravitazionale appena la pallina si allontana tende a riportarla verso il minimo e si allontana dall'altra parte tende a riportarla verso il minimo. Questo è molto diverso da quanto accade per esempio, ad una pallina in cima a una collina. Se una pallina in cima a una collina e noi la spingiamo un po', la pallina inizia a scendere, scende sempre più velocemente e la gravità la tira giù plausibilmente verso una valle. Questa è la differenza tra equilibri stabili, il fondo di una valle, la forza in gioco che è la forza gravitazionale tende a riportarti al punto di equilibrio dopo piccole perturbazioni ed equilibri instabili come la cima di una collina dove la forza in gioco che è la forza gravitazionale tende ad amplificare, potenziare piccole oscillazioni. Quindi quando le forze in gioco depotenziano le nostre piccole oscillazioni, siamo in un equilibrio stabile, quando le potenziano e giocano con noi nel tentare di destabilizzare il sistema, siamo in un equilibrio instabile, noi ci mettiamo in un equilibrio stabile, un minimo, non a caso, una collina è sempre più alta della valle vicina. La valle è il minimo dell'energia, ok? Dell'energia potenziale. Ora, siamo in un minimo e facciamo piccole perturbazioni del sistema. Quindi abbiamo i nostri campi, abbiamo i nostri campi in una configurazione che minimizza l'energia in uno stato di vuoto e diamo dei piccoli shock. Inseriamo un pochino di energia dentro i nostri campi e quindi li perturbiamo e siamo in una situazione sebbene un pochino più complicata, del tutto analoga a quella di una pallina nel fondo in una valle che viene un po' spostata. I nostri campi inizieranno a muoversi debolmente attorno alla loro configurazione di equilibrio e quelle piccole perturbazioni sono proprio le particelle. Noi descriviamo le particelle come fluttuazioni dei campi attorno a uno stato di equilibrio e questa è in soldoni la descrizione delle particelle in teoria di campo. Ora noi abbiamo a che fare con dei campi quantistici dei campi che hanno tutta una serie di caratteristiche un pochino più raffinate raffinatevi. Basti sapere che quando quantizziamo la teoria e quindi prendiamo la nostra teoria classica che vi ho descritto e la trasformiamo in una teoria quantistica a parte lo spazio-tempo ancora una volta che per oggi è lasciato a riposare non lo disturbiamo otteniamo una certa serie di stati quantistici che vivono in uno spazio di Hilbert. Prima che scappiate vi dico in due parole di cosa si tratta. Abbiamo questo oggetto matematico che possiamo immaginare come un enorme hard disk ed ogni file in questo hard disk ogni file sarà chiamato stato quantistico descrive una diversa configurazione del sistema quindi se guardiamo dentro un file scopriamo che i campi sono fatti in un certo modo e quel file contiene tutte le informazioni possibili sui campi e poi se guardiamo in un altro file troviamo che i campi sono fatti in un altro modo con tutte le informazioni possibili sui campi e così via quindi ad ogni stato quantistico corrisponde una certa configurazione dei campi se vi interessa davvero questo argomento vi interessa capire nel dettaglio cosa siano gli stati quantistici sul mio canale c'è una serie di tipo 15 episodi sull'argomento l'ha trovata in una playlist e si chiama meccanica quantistica fondamenti ed interpretazioni dicevo a questo punto come è banale che sia è chiaro che una configurazione ad una particella quindi dove esiste una sola particella un solo elettrone una sola perturbazione che si muove sul campo con cui descriviamo gli elettroni corrisponde ad un certo file nell'hard disk ad un certo stato quantistico nello spazio di Hilbert la configurazione in cui ci sono due elettroni corrisponderà a un altro stato nello spazio di Hilbert ma non solo a seconda di tutte le caratteristiche che questo elettrone può avere la sua velocità e così via avremo diversi la sua posizione quindi ogni possibile configurazione del mondo è descritta da un diverso stato quantistico e noi dobbiamo stare molto attenti perché qui entrano in gioco gli osservatori diversi osservatori vedono la natura in modo diverso ovviamente se io sono fermo e voi vi muovete oggetti che per me sono in moto per voi potranno essere fermi e oggetti che per voi sono fermi per me saranno in moto quindi diamo valori diversi alla velocità e in particolare diamo valori diversi alla velocità e ad altre caratteristiche ma non centriamo delle particelle questo significa che noi dobbiamo fare i conti con questo discorso perché se diversi osservatori descrivono il mondo in modo diverso banalmente misurando diversi valori della velocità di una particella allora com'è che un certo stato del mondo banalmente lo stato del mondo a un elettrone corrisponde a uno specifico stato è la soluzione che vi ho un po' imbrogliato perché lo stato a un elettrone non corrisponde a un solo stato nello spazio di Hilbert ma un insieme di stati un sotto insieme dello spazio di Hilbert se vogliamo continuare con l'analogia precedente se lo spazio di Hilbert è un hard disk e gli stati quantistici sono dei file noi possiamo immaginare che in questo hard disk ci siano certe cartelle e all'interno di quelle cartelle tutti i file che descrivono lo stesso stato ad una particella ad esempio un elettrone descritto da vari osservatori che vanno a velocità diverse e tutta quella roba lì ci dà le informazioni sul nostro elettrone tecnicamente noi diciamo quindi che le particelle sono rappresentazioni irriducibili del gruppo di Poincaré e questo non ci interessa cosa significa ma questo è il termine tecnico per la nostra analogia delle cartelle all'interno della cartella noi troviamo tutti gli stati che corrispondono a diverse descrizioni da diversi osservatori dello stesso stato a una particella dell'elettrone ok e tutti questi stati possono essere trasformati l'uno nell'altro attraverso trasformazioni che appartengono al gruppo di Poincaré o al gruppo di Lorz siamo nello spazio piatto e qui siamo nello spazio piatto ve l'avevo detto all'inizio le cose si fanno un pochino più complicate in spazi curvi la nozione di particella non è più così semplice poi se la gente accelera le particelle lasciamo star tutta questa roba che se no diventa un casino però adesso abbiamo un'idea chiara abbiamo una teoria con dei campi sappiamo che questi campi hanno delle certe configurazioni che soddisfano le equazioni del moto soddisfano la fisica sono realizzabili in natura gli stati di vuoto minimizzano l'energia le particelle sono perturbazioni attorno agli stati di vuoto quando andiamo nella teoria quantistica ogni configurazione è descritta da un certo stato in uno spazio di Hilbert ma dobbiamo stare attenti perché diversi osservatori misurano diverse grandezze fisiche ad esempio la velocità di una particella e quindi una particella non sarà più descritta da un solo stato nello spazio di Hilbert ma da un insieme di stati in particolare un insieme di stati che sono mandati l'uno nell'altro da trasformazioni tipiche della relatività generale della relatività speciale appunto le trasformazioni che ci permettono di mappare la fisica osservata da un osservatore nella fisica osservata da un altro osservatore con questo scioglilingua direi che per oggi la chiacchierata attorno alle particelle è conclusa mi prendo un paio di secondi in più per ringraziare tutte le persone che devo ringraziare io ringrazio chi mi sta seguendo in chat perché questi video sono registrati in diretta mentre la chat sottobrulica di domande commenti e chiacchierate ringrazio i crononauti che animano il gruppo Telegram di Spazi Attrocigliati prendete parte entrateci cliccando sul link in descrizione ringrazio gli iscritti al canale mi raccomando non dimenticatevi di farlo avete sentito un monologo lunghissimo sulle particelle non potete mancare l'iscrizione per sentirne altri se siete così masochisti siete arrivati fin qui evidentemente siete masochisti e quindi vi consiglio di iscrivervi e ringrazio chi mi supporta economicamente attraverso TPI permettendomi di acquistare questo meraviglioso materiale video queste luci fighissime che mi permettono di fare un po' saltino di qualità per oggi è tutto crononauti e ricordatevi che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto a presto